Oggi siamo in Valseriana, facciamo un giro con Mario e Fabrizio e testiamo principalmente la diversità dei polpacci, poi a fine giro vedremo quale ha reso di più. I polpacci sono definitivamente tre. Il primo è quello di Mario che chiamerei cul de bambin perché è liscio, senza peli, è abituato ai grandi dislivelli, ad esempio quando va con la bici da corsa minimo sono 100 km. Poi abbiamo invece il polpaccio di Fabrizio che se non ricordo male è tatuato e con un accenno di rasatura perché anche lui ha qualche problemino, non è ancora bene capito da che parte vuole stare. Infine c'è il polpaccio più osceno e più rustico che quello dello zio che... Scusi eh? Ha quanti peli! E' molto peloso e la caratteristica dei peli a livello estetico non è il massimo però offre una ola e fanno un po' l'alette di raffreddamento in discesa. Bene, seguiranno aggiornamenti. Si sale! Dunque questa proprio per motivarci è una salita fastidiosa infinita, proprio di quelle antipatiche. Come un brufalo sul... Sì, come un brufalo sul... Sì, è un brufalo, sì. E questo è proprio per la motivazione, per rinunciare bene la salita. Quagadà? Ma alle bambine. Hanno male più? Sì, questo è un ruote. Hanno l'imp Lam Wonderful Del Conspirale, oh no. siamo alla baita termen ci hanno negato l'acqua e moriremo assetati facci cosa non fabri, ma chassini, cattivi siamo arrivati qui c'è il maigaro scusi quando è che mungono le mucche? adesso le 5 ma mungete anche i tori soprattutto i tori magnolini aperto chiuso non si sa hanno dato i fratti non si sapeggio non si sapeggio di tocheggeria Vuoi la passeggiata? Vuoi rientrare voi? Sì, è vero! Non ci teneva a dire che anche lui va in bicicletta ancora, no? Eh beh, giusto! Siamo rimasti qui No, non erano vecchissimi Non abbiamo agganciato lo zaino No, non erano vecchissimi No, non erano vecchissimi No, non erano vecchissimi Ah, qua è il forcellino di ramello No, non erano vecchissimi 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 San cambio No, non erano vecchissimi Allora No, non erano vecchissimi No, non erano vecchissimi No, non erano vecchissimi Non erano vecchissimi No, non erano vecchissimi No, non erano vecchissimi Bloccati nel presepio viviente Nel presepio Che fa il bue? Il bue! Io l'asino! E' San Giuseppe! Prova il resto da video!